C'è chi sceglie di guidare così. Attento, c'è uno stop. E chi sceglie Securvia Magneti Marelli, che segnala in anticipo i punti più pericolosi della strada grazie a 3.000 trasmettitori. C'è uno stop! A voi la scelta. Attenti, costa 250.000 lire chiave in mano. Securvia, per una guida più intelligente. Attenti, sono già 3.000 trasmettitori. Grazie.